L'innovativa serie di kart elettrici Electroheads lanciata in Gran Bretagna risponde all'appello del sei volte campione del mondo di Formula 1 Lewis Hamilton per garantire che il talento del pilota sia più importante del suo budget o del suo background. Progettato dall'ingegnere di Formula 1 Rob Smithley, il kart e racing Electroheads offre parità di prestazioni a costi di gestione ridotti. Gli eventi di gara di Electroheads 2020 si svolgono secondo semplici principi arriva e guida e la stessa Electroheads fornirà ai piloti tutto ciò di cui hanno bisogno per correre, che si tratti di un assaggio di mezza giornata per un principiante o di un concorrente in un weekend di gara completo. La tecnologia degli e-kart assicurerà che ogni pilota sulla griglia abbia esattamente la stessa potenza disponibile e il team sarà trasparente sulla condivisione di tali dati, in modo che tutti i concorrenti possano vedere che esiste una parità di trasmissione assoluta. La serie di gara Electroheads 2020 sarà lanciata in due categorie di kart, bambino e cadet. I kart entry-level bambino Electroheads sono alimentati da propulsori elettrici da 3 kW nel telaio da kart RS Electroheads by Birel Art, appositamente studiato per le gare. Con una fascia di età di 6-8 anni, la classe bambino mira rigorosamente a insegnare ai piloti più piccoli le basi della guida del kart prima di scalare le altre corse. Da 8 a 12 anni i piloti possono correre su macchine più potenti Cadet Electroheads da 5 kW sempre sul telaio da cadetto RS Electroheads Birel Art.